Siamo qui a Ferrara nel ristorante 360, Davide Chef Davide di Olaiti, il demi-chef di partire signor, bravo, e siamo qua sulla pasta con la signora Marinella, cosa stiamo facendo oggi signora Marinella? Tortellini, today Miss Marinella is making tortellini, it's a typical thing from Ferrara, take a look at that. Qual sarebbe il segreto secondo lei da questa pasta in particolare, l'impasto, il battu? Un po' di tutto, un po' di tutto. Bellissimo. E' una vecchia ricetta liviana proprio. Bellissimo. This is an old recipe from Ferrara, this is made in the antique way. The ladies making it just like our elders used to do that. Non diciamo nessuno eh? Non diciamo nessuno, semplicemente al mondo. Bellissimo, bellissimo. L'impasto, bello giallo. Bello giallo. Perché abbiamo le uova buone. Le uova italiane. Italian eggs are very important because of the yolk. It's very yellow, it's very pure, it's very thick. It has a lot of intensity in colors and flavors. And this is why the flour and the dough, the final dough is coming this way. We have the American in casa. Eh, si. Obama, hai compiuto gli anni Obama? No, no, ma non fare delle pubblicità politiche qua mi fa la cortesia signora. Guarda il mestiere di questa donna. L'azienda. Che bellissimo come lo taglia signora. Una facilità, lo fa vedere facile. Che velocità? Puede essere su YouTube? Anche tu Nadia. So this is an example of Italian Ferreres pasta. Here we have an example of the Italian ladies, my sisters. We return to the pasta. Adesso mi vicino un po' le mani, alle mani della signora così si vede un po'... Va ferma? Anche se lei va a alta velocità. Vado piano? No, vada bene, vada bene, va bene così. Così guarda? Si, si, si. Bellissimo. Una facilità. You make it look really, really easy. E' bellissimo anche. Il dialtro punto di Matteo ha scoperto di nobili di Nica. Matteo. Si diverte lei con queste cose. Si. E' una domanda signora, da quanto tempo fa lei queste cose? Trenta, trenta. Trenta anni? Si, caro. 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 Si, caro.